una rapina durata poco meno di due minuti in azione almeno quattro malviventi armati di mitra e pistole nel mirino il bar santa chiara caffè di via monte ruscello tra pozzuoli e barcaturo il video della rapina è stato postato dai gestori del bar tabacchi amareggiati dell'accaduto scrivono su facebook poi l'appello mi invitiamo a rivolgervi alle forze dell'ordine qualora foste in grado di riconoscere anche un minimo dettaglio che possa fornire informazioni utili al riconoscimento dei malfattori ribadiscono dai social network un colpo che ha fruttato migliaia di euro tra soldi sigarette e gratte e vinci i banditi prendono in ostaggio le persone presenti nel locale uno dei clienti viene anche preso a schiaffi e gli viene intimato di mettere in una busta di plastica le sigarette e gratte e vinci il gestore invece è costretto come si vede nel video a consegnare l'incasso un minuto e 40 di autentico terrore i banditi poi messo a segno e colpo vanno via con il bottino facendo perdere le proprie tracce sarà difficile poter risalire agli autori del ride in quanto avevano i volti travisati e indossavano dei guanti in lattice una banda ben organizzata e che per gli inquirenti ha messo a segno sicuramente altri ride nella zona